Sì, loro hanno fatto veramente tutto molto bene, noi non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, non ci hanno lasciato la possibilità di esprimerlo, soprattutto con un ottimo servizio, ci hanno messo sotto, un peccato, sicuramente una bella soddisfazione essere arrivati fino a qua, perché comunque a inizio anno nessuno avrebbe detto che saremmo arrivati fino a qui, quindi prendiamo quello fatto di buono fino adesso e testa il campionato. Diciamo che essendo stati fino adesso in panchina, anche da parte nostra, nonostante i ritmi in allenamento, sono uguali per tutti, quindi anche noi ci teniamo sempre pronti, nel mio caso diciamo che non vedevo quasi l'ora di entrare in campo, quindi si cerca sempre di dare il massimo, poi ovviamente se le cose vanno male in generale è sempre più difficile, poi cerchiamo sempre di mettercela tutta.